Il fotografo Roberto Grillo e la professoressa Elisa Resconi della TUM University di Munchen, alla presenza del rettore del GSSI, professore Oggione Ococcia, hanno illustrato e raccontato la mostra un giorno da fisico. L'evento nasce nell'ambito del programma di comunicazione scientifica della TUM con l'intento di approfondire e scoprire l'immagine dei fisici nella società. Ospitata all'Aquila in anteprima assoluta, la mostra sarà poi itinerante in altre città e diventerà oggetto di una pubblicazione. Il fotografo Roberto Grillo ha scelto di ritrarre un certo numero di scienziati durante le loro attività quotidiane al di fuori dell'ambiente di lavoro. Il risultato della collaborazione tra TUM e l'artista è di alto impatto e aiuta a liberare l'immagine delle scienziate e degli scienziati da un'enfasi posta sulla genialità e da stereotipi che possono ridurre l'interesse della società per le tematiche scientifiche, rischiando di scoraggiare giovani e studenti che desiderano intraprendere una carriera dedicata alla ricerca. È stato Roberto che con la sua idea di immagine legata alla fotografia ha proposto di fare fotografie di noi, quindi tutti quelli che sono rappresentati sono colleghi di Monaco, in ambienti normali, nella nostra vita quotidiana, invece di metterci sempre nel laboratorio, davanti a un computer. Al di là degli stereotipi potremmo definire così questa mostra e potremmo definire così anche quella che è l'arte di Roberto Grillo che da sempre va alla ricerca di scatti che superino l'apparenza. Io avevo un po' timore di presentare a casa mia un lavoro così semplice in un momento in cui la mia fotografia ormai è cambiata completamente, si è spostata verso la ricerca d'arte a livelli più alti. Io sono molto convinto di quello che sto facendo, è ovvio però che secondo me un artista non esiste se non è confronto con il pubblico e quindi è fondamentale quello che tu dici, io mi auguro ci saranno feedback anche perché questo progetto voglio che sia il primo al mondo, credo, e quindi forse trattare un tema così importante in un modo così semplice forse vorrebbe essere magari il tocco geniale, non lo so, ce lo diranno gli altri.